Questa vittoria cancella l'amarezza di Pesaro, le dico subito, c'era un rigore solare su Bentivegna per il 2-0 con tanto di cartellino rosso. Sì, sì, anche perché Bentivegna può sbagliare un gol così, però vabbè, andiamo avanti. Che punti fondamentali? No, importanti perché poi in una partita come questa, dove la squadra avversaria rinuncia a giocare, rischi magari di prendere anche il gol. Se prendiamo quel gol probabilmente si sarebbe giocato un minuto e mezzo nel restante tempo. E quindi è una vittoria che vale tanto perché, ripeto, contro di noi qui vengono sempre tutte le squadre a chiudersi. Ed è difficile giocare contro 11 persone che sa che nella propria metà campo o peggio ancora nella propria area di rigore. Per certi aspetti Pescara gioca meglio fuori casa, ma proprio per questo motivo. Sì, oppure gioca meglio quando ti lasciano giocare. È chiaro che così è un po' più difficile. No, abbiamo avuto poco fa D'Agasso in postazione e ha fatto l'ennesima partita da otto in pagella di questa stagione. D'Agasso ha detto io sto bene a Pescara, a gennaio non mi voglio muovere. Ma quanto sarà difficile poterlo trattenere? No, non sarà difficile perché D'Agasso sicuramente ha tante squadre che lo stanno seguendo, guardando, come tanti altri giocatori del Pescara. Però noi stiamo facendo un campionato importante e quindi non bisogna fare danni. E' iniziato il mese di novembre, quindi diciamo è l'ultimo mese che porta a dicembre al mercato. Io la prima domanda così in grandi linee la provo a fare. Sono concrete le possibilità che questo gruppo resti inalterato, nel senso né entrate né uscite, oppure Lonardi va sostituito numericamente? Ma questo poi lo vedremo, adesso è presto, mancano ancora due mesi, quindi un mese e mezzo abbondante. Non c'è questa fretta ma questa squadra sta facendo talmente bene che secondo me possiamo fare solo dei danni, quindi va bene così. Perugia a Ternana lo guarderà il derby domani, comodo sul divano o non interessa? No, io non guardo le altre partite perché noi dobbiamo guardare noi stessi, noi dobbiamo essere quelli di oggi. Oggi è ancora meglio se siamo ancora più feroci, perché nel primo tempo ci siamo un pochettino addormentati insieme alla squadra avversaria. Invece questa è una squadra che deve giocare sempre a mille all'ora perché ce l'ha, perché poi si vede anche chi entra. E' sempre pronto, entra sempre benissimo. Oggi Giorgi è entrato bene, Andrea Ferraris è entrato bene, Tonin è entrato bene. Sono entrati tutti quanti bene, perché? Perché si allenano tutta la settimana in maniera importante e quindi quando vengono chiamati sono pronti. Prima di una domanda, poi saluteremo il presidente dallo studio con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi, io le voglio far rianalizzare senza polemica, ma con una settimana in più di mente fredda, tra virgolette, quello che è successo a Pesaro. Perché a caldo il direttore Foggia è stato squalificato a lungo, l'intervista è diventata virale, lei in settimana è stato abbastanza simpatico dicendo che il Pescara ha giocato non uno con l'uomo in meno, ma con due uomini in meno. Riletta un po' mente fredda dopo una settimana, quella giornata di Pesaro? Abbiamo giocato con due uomini in meno. Studio per il presidente Daniele Sebastiani Domanda di Fabio Ferraresi No, ma innanzitutto saluto il presidente. Volevo chiedere, Daniele, visto l'entusiasmo che si è ricreato in città, se ha ancora voglia di vendere o se forse sta cambiando idea? No, no, non c'entra nulla quello. C'entra nulla, l'entusiasmo fa piacere, fa piacere per i ragazzi perché ne hanno bisogno. E' stato bravo il mister a ricrearlo, questo entusiasmo, insieme a tutta la squadra. La mia idea è sempre quella, quindi è solo di trovare le persone per bene, le persone giuste perché il Pescara non si lascia come fanno in tanti quando si stufano in mano del primo che arriva. Quindi se c'è tempo da impiegare è solo perché il sottoscritto sta valutando tutte le offerte, ma non è una questione di soldi, perché dei soldi, onestamente, siccome non ho mai vissuto o campato con il calcio, non me ne può fregare di meno. E' di dare un futuro importante, ancora più importante, se si può, di quello che è stato fatto in questi 16 anni. Poi la gente si dimentica da dove arriva, è quello che è stato fatto. Però chi poi ama il Pescara, chi ama il calcio, chi ama questa società, sa che questa società ha fatto non tanto, tantissimo per le possibilità che ha. Chiudiamo così, Presidente, ha detto che sta valutando le tante offerte. Una ce la può svelare in via ufficiale? No, quando saranno pronte, definitive, conoscerete tutto. Grazie.